Ciao a tutti, questa sera sono in compagnia di Massimiliano e Daniele per parlare della terza edizione della cicloturistica Gravel, quindi riservata agli amici Gravel, ma poi avremo modo di sapere anche agli amici della mountain bike. Per l'Anello di Proceno, ricordo domenica 26 novembre 2023 alle ore 9, partenza da Palazzo Sforza e per poi andare a vedere quelli che sono i percorsi che hanno tracciato, tra l'altro è stata proprio condivisa in questi giorni la traccia Comot e comunque insomma avremo modo appunto di parlarne questa sera con Massimiliano, quindi passo la parola a Massimiliano che ci illustra un po' questo evento, abbiamo detto terza edizione di Anello di Proceno. Intanto Massimiliano, dov'è che ci troviamo esattamente? Allora, intanto ciao a tutti, grazie Tiziano, ci troviamo a Proceno in un piccolo borgo dell'Alto Lazio a confine con la Toscana, con le province sia di Siena che di Griosseto, ma parliamo proprio di un chilometro o due, siamo sotto il Montamiata e anzi, se uno guardando la parte destra verso nord c'è anche l'Umbria, siamo proprio nell'Alto Lazio e si inserisce in queste due regioni. E proprio per chiamare Anello di Proceno perché? Perché Proceno, poi entriamo nel particolare di questo percorso, di questo evento del 26 novembre, ha la possibilità, questo le dico da cicchista amatore, veramente di avere dei percorsi con pochi spostamenti in luoghi molto conosciuti, Orvieto, Cipigliano, Sovana, Sorano e tutto il Montamiata, Radicopani, San Casciano dei Bagni e non ultimo quello che andremo a fare che è la cilegina sulla torta di quest'anello che invece ci porta dentro il borgo di Civita di Bagno Reggio, ormai famoso possiamo dire in tutto il mondo, che la caratteristica qual è? Che con questo evento possiamo arrivare con la bicicletta, parecendo la salita che di solito non fanno fare, off limits alle biciclette, dentro il borgo in cui ci sarà anche il primo ristoro. Proprio per questo vorrei ringraziare, prima di adentrarmi nei particolari, le amministrazioni sia del comune di Proceno, nella persona di Roberto Pinzi, che nel comune di Bagno Reggio, nella persona del sindaco Luca Profili, che ci hanno dato questa possibilità, è partita questa idea e loro ci hanno appoggiato. Questo è il discorso di questo evento del 26. Lo spiega velocissimamente il percorso, si partirà da Proceno, seguendo la Francigiana fino a Bozzena, da lì, anche lì si passerà, c'è molto panoramico, questo sul percorso lungo, che ve lo spiegherà più dettagliatamente Daniele, per arrivare poi a Civita di Bagno Reggio. A questo punto passerei proprio la parola a Daniele per la spiegazione dei percorsi e per altre informazioni, che è più tecnico in questo caso di me, più preparato. Allora, grazie Tiziano, grazie Massimiliano. Allora, sì, abbiamo disegnato due percorsi. Il primo percorso è lungo, è di 97 chilometri e arriverà a Civita di Bagno Reggio, partendo dalla via Francigia in direzione Bozzena, quindi verso il lago, e subito dopo San Lorenzo ci sarà la deviazione dei percorsi. Il percorso lungo prosegue verso Bozzena e arriva poi a Civita di Bagno Reggio, facendo la caratteristica salita pedonale, ma per quel giorno in via eccezionale sarà anche aperta ai ciclisti. Il primo ristoro sarà posizionato proprio dentro a Civita di Bagno Reggio e poi si ritornerà verso Torre Alfina, sempre però passando per Castel Giorgio, quindi con uno sconfinamento in Umbria, e sempre per l'ottanta per cento del percorso sarà su strada sterrata, quindi questo è importante perché per gli amanti del gravel è un po' diciamo il pane che vogliono. A Castello di Torre Alfina sarà posto il secondo ristoro e poi si ritornerà verso Proceno, mancheranno circa 20 chilometri. Il percorso medio invece subito dopo San Lorenzo, sempre in direzione sulla via Francigena, devierà subito in direzione di Castel Giorgio e quindi si ricongiungerà poi prima di Torre Alfina sul percorso lungo e arrivando a Castello di Torre Alfina, dove sarà posizionato anche per i concorrenti, ci ritorneranno il medio, sono per i partecipanti, ci ritorneranno il medio, il ristoro, e poi si ritornerà a Proceno. Abbiamo scelto questi due percorsi che sono esigenti, ma sono adatti ad ogni tipologia di ciclista, per chi è più allenato, per chi è meno allenato e poi abbiamo anche, ci siamo adoperati per trovare dei noleggiatori che da quanto ci dicono hanno già noleggiato molte bici e approfitto per questo spazio per ringraziarli che sono Radicofani e Bike e l'angolo del biker che ci hanno supportato in questo evento con il loro noleggio. Approfitto quindi anche per salutare gli sponsor che hanno deciso di supportarci in questo evento che sono Acqua e Sapone, azienda leader nella cosmetica, Born che riguarda gli integratori sportivi, Terre d'Acquesio perché la nostra mission è quella di promuovere il territorio e quindi un'azienda vinicola che produce ottimi vini locali, AMP che è l'Accademia dei Massaggi Professionali perché crediamo che dopo uno sforzo il massaggio sia la prima fonte di recupero muscolare e poi Orange che è una birra artigianale pensata per gli sportivi ricca di oligoelementi e maltodestine già sponsor dei mondiali grave il 2022. Insomma, penso che abbiamo trovato molti partner. Gli ingredienti sono sicuramente tanti. Chiaramente le iscrizioni sono aperte su Endu però insomma l'invito è quello di vivere anche un fine settimana lì presso proprio Bruceno perché comunque c'è una sagra, è giusto? La sagra della Polenta, sì. La sagra della Polenta che inizia, si svolgerà in due fine settimana, il primo fine settimana è proprio partirà dal sabato sera 25 novembre e poi per il pranzo e anche la domenica della cicloturistica e con questo voglio dire che proprio chi verrà a fare la cicloturistica la deve fare in completo relax, non è una gara perché noi aspetteremo fino all'ultimo partecipante per fargli mangiare alla sagra della Polenta, diciamo il Polenta Party. Tutta cucina fatta in casa, poi questo verrà valutato da chi verrà ma ci teniamo a dirlo, anzi con l'occasione ringrazio tutto il gruppo della Proloquo e anche i collaboratori che ora vedete qui me e Daniele anche per la cicloturistica che siamo i principali fautori ma dietro ci sono altre persone che lavorano anche insieme a noi. Vorrei ringraziare anche tutti per questo impegno perché per un piccolo borgo è veramente un grosso impegno ma che facciamo con tanto entusiasmo. Ritornando al fine settimana, sì, la gente vuole passare anche due giorni e può venire sì dal sabato sera che c'è sempre la sagra della Polenta c'è musica, c'è divertimento e poi passare alla passione del ciclismo e visitare dei luoghi unici e ripetibili tipo Civita di Magno Reggio. Allora, ricordiamo quindi l'iscrizione sono aperte su Endo però l'invito è quello di venire e comunque vi potete scrivere anche il sabato e la domenica mattina. Per tutti, l'abbiamo detto, il pranzo alla sagra della Polenta quindi insomma qualcosa davvero di particolare, di unico, non solo i percorsi ma verranno coccolati coloro che verranno con noi appunto domenica 26 novembre con partenza abbiamo detto alle ore 9 verranno coccolati fino all'ultimo perché siamo lì ad aspettarli e soprattutto insomma gusteremo insieme questa Polenta che a quanto mi si dice insomma è buona. Quindi un grazie e con l'occasione appunto di ringraziare anche io la Proloquo di Proceano perché comunque questi eventi nascono anche e soprattutto per sì condividere una sana passione il ciclismo quindi in compagnia degli amici della Gravel ma anche le mountain bike però comunque per promuovere un territorio un territorio che chiaramente si presta perché insomma le strade bianche ci sono e quindi insomma sicuramente non farete tanto asfalto mi si dice che sono veramente pochi quindi l'appuntamento poi la domenica successiva il 3 dicembre per la terza edizione appunto della camminata con i percorsi che vanno da 10, 14 e 24 km quindi un menù per tutti. Allora cari amici non resta che venire appunto all'anello di Proceano Gravel comunque ricordo iscrizione aperta su Endo però insomma ci sarà la possibilità di iscriversi anche all'ultimo. Perfetto, ottimo ringrazio anche te Tiziano vi aspettiamo tutti e tre a questo punto perché Tiziano sarà il nostro speaker ufficiale noi saremo lì per qualsiasi informazione correggimi Daniele e potete andare sulle nostre pagine Facebook e Instagram e troverete i nostri contatti mio e di Daniele potete chiamarci siamo a completa disposizione per darvi tutte le informazioni che vi servono e vi aspettiamo a questo punto numerosi va bene? Incrociamo le dita noi l'impegno ce lo stiamo mettendo e il massimo e grazie a tutti veramente grazie grazie buona serata grazie grazie a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti